Oltre 2.500 persone hanno partecipato alla seconda edizione della rassegna cinematografica sui diritti umani Rights on the Movie 2016, dedicata quest'anno ai temi dell'immigrazione. La rassegna, promossa dal Comitato regionale per i diritti umani e organizzata con Agi Scuola, ha preso il via il 3 ottobre per celebrare la giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione nel terzo anniversario della tragedia di Lampedusa.